Buonasera buonasera a tutti cari amici cari amiche di Penelo per le sue carte eccoci di nuovo insieme per un nuovo video come vedete questa sera ho deciso di mischiare le carte insieme a voi voglio lasciarvi un messaggio ma in special modo voglio tentare per tramite le mie carte di dare una risposta ad una vostra domanda ok quindi io ce la metterò tutta ma dato che sono stese generali ho deciso di mischiare e di concentrarmi insieme a voi quindi voi potrete concentrarmi nel mentre io mescolo il mazzo e poi farete la vostra scelta del del mazzetto che vorrete ok vi invito quindi se avete innanzitutto io vedrò di darvi un consiglio chiedo alle carte un consiglio per una questione che vi sta a cuore e se avete appunto un quesito in particolare una domanda in particolare che vorreste porre alle carte lo potete fare quindi mentre io mischio concentratevi anche voi insieme a me concentratevi sulla cosa che vi sta a cuore sulla domanda che volete porre alle carte e vediamo se nel mio piccolo molto umilmente se riesco a interpretare il messaggio di risposta delle mie carte alla vostra domanda ok io ci provo però è importante che anche voi vi concentriate con me quindi mentre vedrete questo video mentre io mescolerò concentra quanto più riuscirete voi a concentrarvi sulla vostra domanda tanto più esatta e precisa sarà la risposta che otterrete dalle carte ok quindi andiamo allora io chiedo quindi un messaggio per chiunque ve lo chiederà un consiglio ma anche la risposta alla domanda fatta per gli amici e le amiche del canale Penelo per le sue carte per chiunque ve lo chiederà io vi chiedo di dare una risposta alla loro domanda di dare un consiglio a chiunque ve lo chiederà Davide E' un consiglio per chiunque ve lo chiedere Ok, eccoci qua. Questi sono i tre mazzetti, quindi i tre consigli, se vogliamo chiamarli, se vogliamo naturalmente chiamarli consigli o altrimenti una vera e propria, diciamo così, risposta ad una vostra domanda se questo avete chiesto alle carte. Allora, prendiamo la mia solita scatolina magica e vediamo così, molto tranquillamente, metto il leone qua, il pesce qua e poi così, la prima che mi è capitata, eccola qui, la coccinella. Va bene? Quindi, il pesciolino per il mazzo 1, il leone e la coccinella. Quindi, concentrare, io penso vi siate concentrati insieme a me, se non lo avete fatto, fate la vostra scelta adesso ed andiamo a vedere il messaggio nascosto sotto ognuno dei tre mazzetti. Sì, eccoci qua. Vediamo il pesciolino che cosa ci ha risposto. Eccola qua. Questa carta è capovolta, ve la faccio vedere, così è diritta. A noi per uscita, appunto, a testa l'ingio. Eccola qua. Dunque, vediamo, beh, che dire. Qui, se avete posto una domanda, qui si vede che sicuramente è un qualcosa che vi sta molto a cuore. Un qualcosa su cui avete riposto le vostre speranze, tutte le vostre speranze. Devo dire, anche aspirazioni, quindi magari aspirate alla realizzazione di qualcosa, no? Che sia un lavoro, che sia un amore, che sia appunto ottenere qualcosa da un amico, che sia qualsiasi cosa voi abbiate chiesto. Allora, devo dire che qui la carta non è positiva perché è veramente la disillusione, la delusione. Una speranza frustrata, quindi come risposta alla vostra domanda, qui sinceramente non è molto positiva. Mi raccomando, non cercate di affogare le vostre delusioni di qualsiasi natura, esse siano, in forme di tendenze strane. Insomma, ci siamo capiti particolari. Mi raccomando, rimanete diritti. Se non è questa, sarà la prossima volta, ma la realizzazione può sempre arrivare nella vita. Detto questo, vi vedo molto sfiduciati, molto pessimisti, molto delusi, deluse, no? Da questo qualcosa, a cui, come abbiamo detto, tenete molto. Ecco, la carta io credo che vi inviti, vi dice, guarda, per adesso no, questa cosa non è possibile, non si verificherà. Però vi dice, rimanete, rimanete, cioè dovete ritrovare, diciamo così, ecco, la speranza, la fiducia nella vita. Quindi vi nega, vi nega ciò che avete chiesto, ma vi invita, vi sprona a ritrovare quell'ottimismo, quella fiducia, quell'interesse nella vita che in questo momento sembra abbiate perso. Quindi ecco, il messaggio, il consiglio della carta è, mi raccomando, ritrova l'ottimismo, torna speranzosa e fiduciosa nel tuo futuro. Devi sempre auspicare e chiedere al cielo di ascoltare, di esaudire i tuoi desideri. Quindi non mollare la speranza, mai. Per adesso non è il momento, ma tu devi comunque ritrovare la fiducia. Vediamo quindi quale messaggio ci lancia il leone. Eccolo qua, questa carta, questo personaggio mi è già uscita tre volte con voi. Se vi ricordate, l'abbiamo già visto ovviamente in altri frangenti, per altre domande, quindi tutta un'altra storia. Però voglio dire, mi esce, mi sta uscendo spesso. Dunque, diciamo che come risposta alla vostra domanda io la vedrei nel senso positivo, perché è una carta che volge quindi al positivo. Se avete chiesto per un lavoro, questa assolutamente è la manna dal cielo. Quindi qui c'è un contratto lavorativo, assolutamente. Se avete chiesto se un uomo si rifarà vivo, assolutamente sì. È proprio l'uomo che ha iniziativa, che prende iniziativa e che quindi fa qualcosa. Se avete chiesto, quindi, se conoscete un nuovo tizio, no? Una nuova persona, se farete una nuova conquista, assolutamente positiva. Se avete chiesto per il lavoro, non so se ve l'ho detto, ve lo ripeto, anche qui è assolutamente positiva. Quindi, insomma, come vedete, è una carta veramente che volge al positivo. Quindi, qualsiasi cosa abbiate chiesto, volge verso il sì, volge verso il positivo. Per quanto riguarda il consiglio della carta, beh, qui vi dice, sta arrivando un periodo molto positivo, sia che riguardi un qualcosa che necessita di fedeltà e di stabilità, perché questa carta volge alla stabilità, no? Volge al far, vedete, è un re seduto sul trono, quindi è un qualcosa che si realizza, che si concretizza. Quindi, positivo il lavoro, positiva l'amicizia, ecco, successo professionale, quindi volge veramente al positivo. Quindi, come consiglio, direi, non mollate, andate avanti, investite nel vostro futuro, perché sicuramente qualsiasi impresa voi iniziate o farete, questa sarà ben condotta, cioè porterà veramente a dei successi, diciamo così. Per quanto riguarda il lavoro, qui c'è un successo, forse proprio anche un trasferimento per motivi di lavoro, che però sono ben visti, perché è una cosa che quindi vi farebbe, vi farebbe piacere. Quindi, che dire, cioè, in bocca al luco, veramente complimenti, perché per il lavoro è straordinaria. Se avete chiesto, come dicevo io, per l'amore è altrettanto straordinaria, per il denaro idem voglio dire io. Quindi, complimenti. Eccoci arrivati alla coccinella, vediamo che messaggio, che consiglio ha per noi. Allora, questa carta ve la faccio vedere, guardate che cos'è questa carta, cioè queste carte sono meraviglie, a parte io le amo tutte, i miei mazzi, sinceramente io li adoro, li amo, proprio come se fossero, non voglio dire figli, perché direi, insomma, però veramente io sono innamorata delle mie carte. Allora, che dire, qui il messaggio parla di rabbia, parla di rabbia, siamo arrabbiati, siamo infelici, non ci sentiamo soddisfatti, non ci sentiamo capiti, non ci sentiamo compresi da chi ci sta intorno, viviamo un senso di abbandono quasi, no? Di indecisione sul futuro, magari non sappiamo cosa fare, proprio perché non ci sentiamo amati, non ci sentiamo veramente voluti bene, né riconosciuti, sia in amore, sia in altro, diciamo così. Quindi, se avete fatto una domanda a questa carta, sicuramente anche qui c'è l'emozione in ballo, no? C'è un qualcosa a cui teniamo che potrebbe riguardare la casa, ma sicuramente la famiglia o comunque un'amicizia molto molto importante per noi. Comunque sia, se avete chiesto qualcosa alla carta, questa per adesso vi risponde in senso negativo, quindi vi nega. Qui c'è un qualcosa, c'è collera, c'è odio, c'è rabbia, ma c'è anche preoccupazione, no? C'è violenza quasi, oserei dire, quindi qui sicuramente c'è un qualcosa che non ci fa stare bene. Non ci sentiamo amati e non ci sentiamo compresi, c'è proprio un oceanico bisogno di affetto ed è a questo che vi invita la carta, perché qui parla proprio di perdita di un affetto, no? Di perdita di un'amicizia anche, volendo. o, come dire, magari avete cambiato casa da poco e non riuscite ad inserirvi nel nuovo ambiente, non vi trovate bene dove siete. Insomma, la carta, se devo vederla, se deve darvi, deve lanciarvi quindi un piccolo consiglio, diciamo così, vi consiglia proprio questo. Cercate, anche se è un momento non facilissimo per voi, cercate nei limiti del possibile di circondarvi di persone a voi affini, di persone che vi vogliano bene, che possano dimostrarvi il loro affetto, insomma, che possano lenire, diciamo così, quindi, ma neanche questo dispiacere, perché qui anche, però, qui più che dispiacere, ci vedo proprio rabbia, collera, qui siete arrabbiati, siete arrabbiati, non vi sentite compresi da chi invece dovrebbe capirvi, secondo voi più di tutti, cioè i nostri familiari, i nostri affetti più vicini. Quindi la carta vi invita proprio a questo, no? Se deve darvi un consiglio, vi dice, cercate innanzitutto di calmarvi e poi di cercate di circondarvi di persone, magari, no? Che possano capirvi, che possano dimostrarvi il loro affetto e che quindi possano lenire, diciamo così, le vostre mancanze, insomma, i vostri sentimenti di abbandono che invece sembra stiate vivendo in questo, scusate, in questo momento. Eccoci qua. Quindi, io spero abbiate gradito questo veloce video, oddio che ho fatto, questo veloce video che ho inteso farvi questa sera, io anche per stasera ho concluso, vi ricordo per chi fosse interessato, per chi volesse delle informazioni, no? Per un consulto privato con me, può benissimo scrivermi o al mio indirizzo di posta, lecartedipenelope.com o semplicemente scrivermi su Facebook cercando le carte di Penelope, va bene? Io anche per questa sera ho concluso, vi invito naturalmente ad iscrivervi al mio canale, lasciamolo crescere sempre di più e che dirvi, tanta gioia e amore ad ognuno di voi, io vi aspetto al prossimo video. Ciao!